Buonasera, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo incontro. Oggi pomeriggio sarà un pomeriggio denso di cose. La prima è questa, un dibattito totalitarismo, rivoluzioni e macismo. Sono presenti Sandro Bellassai, la co-relazione al imperialismo dell'Italia fascista, Stefano Pivato, al centro, lo sport e i regimi totalitari e poi Gianviero Piretto, il macismo russo nel paese dei Soviet. Prima vi lascio la parola a Patrick Leach, rappresentante anche dell'università, che vi porterà i saluti dell'università. Di seguito, verso il 17.30-18, torniamoci larghi perché viene dall'estero e non sappiamo che era lì di preciso, c'è l'anteprima italiana del libro Se questa è una donna, il campo di Ravensbrück. Praticamente Sara El, l'autrice, presenterà il suo libro, interrogata in conversazione con Marielle Matarbonucci e Marcello Flores. Il libro è stato editato dalla Newton Compton proprio in occasione del festival. Oggi esce l'edizione italiana, quindi deve essere una cosa bella. Poi questa sera, alle 21, al Cinema Saffi ci sarà la professione di giuncere di Marco Berlotti con l'introduzione di Gianfranco Miro Mori. Vi ringrazio, ringrazio i nostri regolatori e passo la parola a Patrick Leach. Grazie a tutti. Sì, molto favorito a tutti. Forse saluto a parte del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione all'evento e agli ospiti che parlano oggi. Sono Patrick Leach, vice direttore del Dipartimento. Forse saluto a parte del Professor Raffaele Lozzano che purtroppo è stato malato oggi, quindi non può venire e mi ha pregato poi di leggere un breve suo saluto perché ci tenevo molto a venire e purtroppo non ha fatto tutto. E dice Sono lieto di porre le mie salute a nome del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione a tutti convenuti a questa sezione del Novecentofest che si svolge in questa nuova sede del campus universitario di Forlì. I sogni degli architetti progettisti riguardano questa struttura, ossia un intreccio di strutture e pensieri fra l'università e città iniziano ad avverarsi con questo tipo di iniziativa che vede coinvolta il nostro Dipartimento e gli organizzatori e promotori di questo Novecentofest. Vi ringrazio pienamente. Il mio Dipartimento ha collaborato fattivamente alle iniziative che si svolge nell'ambito di alcune linee di ricerca e di formazione che gli sono proprie. La storia in generale, in particolare la storia di genere, che vede l'intervento di Sandro Bellasai oggi e di Raffaele Baccolina ieri. Una piccola nota di soddisfazione, la traduzione del volume Il cielo sopra l'interno di Sarah Helm, che vi ha rappresentato alle 17.30, raccontato sulla collaborazione di una nostra laureata. Vi auguro buon proseguimento del lavoro. Grazie, buon pomeriggio. Mi presento, non abbiamo oggi i conduttori e i conduttrici, quindi ci autogestiamo le relazioni. Io sono Sandro Bellasai, insegno quella che noi chiamiamo appena Slimit, scuola di interpreti, ma che si chiama scuola di lingue, lettere, traduzione e traduzione, vicepresidenza di Furlì. Mi occupo di storia contemporanea e anche di storia di genere. La mia relazione si intitola appunto Il Pinerismo dell'Italia fascista. Io comincio subito con una citazione, una citazione di Giuseppe Maggiore, un giurista, e questo brano è tratto da un testo del 1927. Il fascismo è maschio, ama il pericolo, rifugia dalle chiacchiere, sdegna per naturale selvatichezza i corteggiamenti, mena dove occorra le mani, è fatto di pietra dura invece che della pasta dolce dei frutti carmiti, tanto basta a determinare il suo sesso. Il fascismo è, in una parola, suggettatore di virilità, contro ogni infemminimento e infrollimento dello spirito. E perciò contro il petrarchismo della poesia, il misticismo della religione e il liberalismo della politica, contro il cicisbeismo del costume e il manicalarchismo dell'educazione. Si può essere più maschi di così? Ecco, questa è la citazione abbastanza eloquente del valore, è una tra mille naturalmente, abbastanza eloquente del valore che la dimensione retorica della verilità ebbe per la politica, per la cultura politica del ventennio, per la cultura politica fascista. Giuseppe Maggiore non è un imbecile qualsiasi, potremmo considerare, forse un po' di cattivere, un imbecile importante, nel senso che giurista, prima magistrato, e poi penalista di spicco, fu poi il rettore delle università di Palermo alla fine degli anni 30, fu uno degli intellettuali che firmarono il manifesto della razza nel 1938, fece il tempo, mentre gli alleati sbarcavano, a diventare presidente dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, quindi, insomma, diciamo, non è l'ultimo delle voci, non è l'ultimo delle voci per importanza. Qui è abbastanza chiaro che, come dire, il virilismo viene definito sotto forma, per lo più di stile, di stile di vita, in qualche modo di un codice esteriore. Vorrei però sottolineare nel mio intervento come questo codice, in realtà, non sia stato soltanto, come dire, una vernice retorica, non sia stato soltanto goliardia, non sia stato soltanto un atteggiamento, come dire, buffonesco, un po' accessorio, una specie di dimensione metaforica, ma sia stato, invece, un campo discorsivo che ha attraversato ambiti della politica, della cultura politica, ma anche della politica concretamente attuata, della politica di governo, i più ampi. Questo molto a di là, io credo, in età contemporanea del ventennio fascista, ma certamente, durante la dittatura fascista, il virilismo è, come diceva anche negli anni 90, uno studio importante di Barbara Spackman, che non è stata tratta un metodo territoriano, come dire, la cifra stessa, forse, della cultura politica fascista. Ecco, quindi, questo è il primo, come dire, asse su cui vorrei centrare il mio intervento, cioè il virilismo, non soltanto come, così, in pernice un po' buffa, un po' ridicola, del fascismo, degli atteggiamenti, magari, buffoneschi al balcone di Palazzo Venezia, o le leggende intorno alla figura del Duce, ma è qualcosa che disegna un equilibrio di potere tra i generi e, secondo me, entra anche pesantemente in quella che è sicuramente una delle grandi questioni della politica, della storia politica in età contemporanea, cioè il rapporto tra modernità e tradizioni. D'altra parte, questo è il secondo punto, quando si parla di virilismo, io credo, non dobbiamo parlare soltanto di uomini, perché parte integrante della operazione, se vogliamo dire così, virilista, è quella grazie alla quale gli uomini disegnano una certa femminilità ortodossa, disegnano i confini e soprattutto i limiti della libertà femminile. Questa operazione discorsiva e normativa non è qualcosa di accessorio, ma è un pesante e fondamentale ingrediente della costruzione della mascolinità stessa. Questo perché le identità di genere, non lo scopro giustamente io, sono relazionali, sono intimamente relazionali, cioè l'una non è comprensibile pienamente senza l'altra, perché vivono entrambi in un sistema di relazione di potere e soprattutto si strutturano e si modificano reciprocamente. Quindi l'identità, mi limito in questo intervento all'identità come dire maschile, femminile, eterosessuali, l'identità sono legate all'identità di genere da un rapporto di relazionalità e di reciprocità. Però io credo che in questo senso questo discorso vale in maniera possiamo dire più drammatica per l'identità maschile, perché il genere maschile è, si può dire, in ogni epoca il genere dominante, il genere che detiene il potere a tutti i livelli. quindi gli uomini hanno gli uomini intendo la maggior parte degli uomini quegli uomini che intendono aderire a quella divisa, a quel profilo identitario egemone, hanno uno speciale interesse alla conservazione, alla stabilità degli assetti di genere e delle gerarchie di potere tra i generi. E quindi storicamente questa stabilità delle gerarchie di potere tra i generi risulta per gli uomini una questione fondamentale per la sicurezza identitaria del genere maschile stesso, cioè potere e identità maschile in una logica tradizionale e quindi viene vista sono legati a doppio filo nel momento in cui possiamo leggere la storia di genere da parte degli uomini dell'otto e del novecento tutta in questa chiaccia, nel momento in cui il potere e la supremazia assoluta maschile è minacciato o si pensa possa venire minacciato da un nuovo protagonismo femminile dall'avanzata di un'idea di uguaglianza eccetera eccetera gli uomini sentono la propria stessa identità non soltanto il proprio spazio le proprie possibilità materiali e morali e questo è il motivo principale io credo per cui il genere maschile ha posto così tanta attenzione un'energia enorme nella sorveglianza in tutti i tempi si contiene della ortodossia femminile nello stesso momento in cui naturalmente sorvegliava anche l'ortodossia maschile il problema quindi come dire un tentativo di stabilizzare gli assetti e l'etica tradizionale una legge dei padri che si presumeva avrebbe dovuto essere valida per l'eternità così come nel passato era valida dalla notte dei tempi il problema però è che l'avvento della modernità a livello culturale politico sociale in senso latro comporta una progressiva secolarizzazione della morale corrente nel senso che valori norme modelli errori si affrancano sempre di più dal rapporto di subordinazione necessaria nei confronti della tradizione e così il principio di gerarchia del principio di gerarchia che possiamo considerare in un certo senso la cifra politica profonda di questa identità maschile legata a doppio filo proprio alla posizione del comando questo principio di gerarchia perde sempre più terreno man mano nel corso dei decenni tra 8 e 9 c'entra a favore dell'uguaglianza del libero albitrio di uno scenario in cui si lascia spazio o si pretende l'autodeterminazione dell'individuo ma anche di vari soggetti collettivi popoli generi classi ecco secondo me è all'interno soprattutto all'interno di questo contesto che noi dobbiamo leggere la rivincita la revanche di un fronte culturale scientifico politico a fine ottocento che tende energicamente spesso anche violentemente a riaffermare le gerarchie sociali razziali di genere come naturali cioè a come dire congelarle per renderle intoccabili in una sfera di trascendenza metastorica una parte secondo me non secondaria di queste retoriche neogerarchiche le potremmo definire è costituita dal discorso virilista questo discorso è un campo retorico in cui un campo di linguaggi di percezioni e di rappresentazioni in cui si intessecano a fine ottocento in tutto l'occidente praticamente militarismo imperialismo razzismo autoritarismo nazionalismo e anche classismo anti-pleveo pensiamo alle prime costruzioni analisi scientifiche della folla della recente sociologia italiana e francese soprattutto a fine ottocento Gustavo e Bon scipio sigla in Italia la folla le folle urbane questo fenomeno tipicamente moderno relativamente nuovo per l'epoca come qualcosa di minaccioso la folla è suggestionabile la folla è animalesca per definizione la folla è femmina quindi qui come dire misoginia e autoritarismo antidemocrazia si saltano in un linguaggio unico praticamente in questa concezione virilista la secolarizzazione l'uguaglianza il pluralismo in una parola la modernità producono frutti nefasti e appunto innaturali contro natura che minacciano la sopravvivenza stessa degli uomini in quanto genere questi frutti tra i primi questi frutti possiamo sicuramente elencare l'emancipazione femminile o prima ancora il femminismo peggio ancora perché anche la femminilizzazione degli uomini dall'altra parte un termine che a fine 1800 e inizio del 1900 ricorre ossessivamente nella pubblicistica di tutta Europa anche questo è un altro aspetto di quella che viene chiamata degenerazione degenerazione è il titolo di un best seller europeo del medico pirese Max Lorddard nel 1892 e racconta appunto di questo pessimismo antropologico di una civiltà moderna che sta divorando se stessa e sta distruggendo i fondamenti della tradizione tra parte importante di questo opera di istruzione e la messa in discussione delle gerarchie naturali e di genere per combattere questi scenari apocalittici in cui si parla esplicitamente di fine del mondo sembra che non ci sia altra strada che la difesa a spada tratta non soltanto della supremazia maschile tradizionale ma anche di uno scenario culturale politico ispirato alla tradizione quindi all'immobilità come qualcosa di intoccabile se tocchiamo questo salta tutto quindi la continuità di questo scenario nella logica virilista tra 8 e 900 è una garanzia essenziale della continuità della supremazia maschile ma è garanzia anche della continuità dell'integrità maschile quello che dicevo prima il legame a doppio filo tra supremazia e identità è come se senza il piedistallo della supremazia gli uomini non solo si sentissero male ma non si sentissero più neanche più uomini davvero in qualche modo appunto femminilizzazione degli uomini è un fantasma che si aggira per l'Europa tra 8 e 900 e anche per questo motivo che misoginia e omofobia che non sono assolutamente esclusivi del virilismo più roboante come poi sarà sicuramente quello fascista sicuramente rappresentano però ingredienti fondamentali non accessori di quello stesso virilismo logicamente e ideologicamente potremmo dire per più ragioni ma il problema però è che già al tempo della belle epoche quindi di quel torno di decenni a cavallo tra 8 e 900 l'incipiente società di massa rende ormai completamente anacronistico il progetto di congelare la modernizzazione cioè di proteggere la società tradizionale e gli assetti della società tradizionale dai venti per questa modernizzazione ormai perfino a molti nostalgici del bel tempo andato sembra chiaro che la modernità è qualcosa di irreversibile no? addirittura perfino il Papa è un XIII come sappiamo per certi aspetti ma non Francesco Giuseppe per esempio lui il Kaiser che continua a vivere fino alla sua morte nel 1916 senza automobile senza telefono ma questi sono naturalmente notazioni come dire quasi frigole ma sono indicative di un certo quadro in cui si trova la società e la cultura e la politica europea agli inizi del Novecento proprio tra modernità e tradizione sul medio periodo quindi l'unica soluzione anche ai più conservatori sembra una specie di modernizzazione pilotata sorvegliata delle gerarchie sociali delle gerarchie di genere delle gerarchie razziali e dei suoi corollari culturali e ideologici proprio per evitare la prospettiva la sciagulata prospettiva specularmente opposta cioè quella di de-gerarchizzare la modernità cioè di una modernità che mette da parte completamente il principio di gerarchia la guerra la grande guerra offre ovviamente una prima grandiosa sintesi di tutti questi elementi e soprattutto delle potenzialità della prospettiva virilista la guerra ricolloca in apparenza poi in realtà le cose non saranno sicuramente così i generi al loro posto naturale quindi gli uomini armi in pugno a fronte a combattere per la patria le donne a casa a badare ai figli a guardia del focolare domenico quelle cose naturalmente non andranno esattamente così questo massacro industriale del primo conflitto mondiale costituisce il trionfo di quelle dimensioni ideologiche che intrattengono con il virilismo un rapporto di nutrimento reciproco di sostegno reciproco il nazionalismo il bellicismo l'anti-individualismo la Seneci dove è un'istituzione per definizione e lo sarà soprattutto la guerra era la grande guerra dove l'operaio massa spazza le ultime illusioni di una guerra combattuta in modo cavalleresco eroico ecc ora il fascismo si richiama geneticamente questo è molto noto proprio alla guerra durante il ventennio ricorre spesso questa affermazione che la data di nascita della nuova Italia è il 24 maggio del 1915 il giorno dell'entrata in guerra dell'Italia il fascismo si afferma e si consolida come la forza politica che fa una cifra distintiva del principio gerarchico pensiamo soltanto questo è soltanto come dire una notazione quasi superficiale i gerarchi per dire l'elite politica fascista la rivista gerarchia politica più importante diretta dallo stesso Benito Mussolini del fascismo eccetera eccetera questa prospettiva la prospettiva fascista mette al centro esplicitamente il proprio programma politico la nazione il militarismo l'autoritarismo e la violenza come sappiamo quindi il fatto che con il fascismo la cultura vidilista conosca la propria apoteosi sicuramente non è un caso e non è neanche un elemento come dicevo prima di puro folklore il disprezzo delle donne l'esaltazione di una virilità esuberante e indomabile incontrollabile un certo simbolismo che insiste in mille modi ossessivamente su un destino nazionale trascendente metastorico i colli fatali di Roma appunto il mito di Roma imperiale tutto questo costituisce il materiale primario per la costruzione di un immaginario rassicurante nell'epoca della politica delle masse rassicurante nel suo antimodernismo ambivalente ambivalente perché questo immaginario vorrebbe rappresentare la sintesi una mediazione aurea tra una modernità politica disciplinata controllata da un lato e la riconsacrazione della tradizione con tutte le sue gerarchie dall'altro il virilismo in epoca fascista come in altre epoche ma forse più che in altre epoche svolge anche un'importante funzione in termini di consenso perché come dire parla a maschi a uomini di tutte le classi sociali ovviamente quindi rappresenta una potente leva retorica interclassista si rivolge esattamente come più o meno come faceva il nazionalismo a tutti gli strati sociali quindi rassicura agli uomini sulla continuità delle gerarchie di genere nella modernità e quindi anche sulla stabilità e sull'integrità di un profilo identitario maschile tradizionale probabilmente possiamo considerare il regime fascista l'epoca fascista come la specifica via italiana alla modernità politica che non è un giudizio di valore nel senso alla politica di massa cioè all'epoca in cui le masse entrano ormai non sono più viste come ancora in età liberale come pericolose da tenere lontano da evitare dove la politica è ancora il governo è ancora un affare di pochi notabili il fascismo naturalmente mobilita sollecita suggestione vuole le masse continuamente attive questa via è segnata questa via autoritaria diciamo alla modernità è segnata in modo esasperato dal virilismo ma anche appunto dall'autoritarismo e questo doppio segno della politica italiana nella modernità questa specie di tratto originario potremmo dire imprinting se vogliamo della politica della modernità italiana attraverserà la storia del nostro paese per molti anni in questo senso il fascismo è davvero come diceva Gobetti l'autobiografia della nazione ma lo è forse anche per certi aspetti il virilismo da questo punto di vista cioè una nazione che da Rodolfo Valentino a Silvio Berlusconi ha fatto della virilità una specie di divisa collettiva l'Italia è anche il paese in cui la denigrazione delle donne a tutti i livelli della cultura e della politica sembra assurgere una specie di sacramento laico della retorica politica laico e non laico la misoginia costituisce ovviamente uno dei pilastri della cultura virilista in ogni epoca e questa misoginia in epoca moderna è da contestualizzare all'interno di uno scenario nel secondo ottocento in cui le donne prendono e soprattutto rivendicano sempre più protagonismo nella sfera pubblica quindi il disprezzo e la svalutazione delle donne quasi in funzione anzi senza quasi in funzione reattiva difensiva sono strettamente legati alla protezione della supremazia maschile con il fascismo la misoginia acquisisce dignità di strumento fondamentale della politica della nazione la donna deve tornare sotto la sudditanza assoluta dell'uomo padre o marito sudditanza e quindi inferiorità spirituale culturale ed economica si tratta di sanzionare il principio volerlo diffuso ad opera di tutti gli strumenti di circolazione delle idee darne tutte le necessarie giustificazioni suggestionarne la pubblica opinione della politica di massa rafforzarlo mediante provvedimenti quali la modificazione dei programmi di istruzione femminile il divieto dell'occupazione femminile il divieto dello sport femminile e la sola autorizzazione a praticare l'educazione fisica scolastica la severa sanzione degli affronti al pudore la modestia eccetera chi scrive queste parole nel 1938 anche in questo caso non è l'ultimo degli imbecilli ma è Ferdinando Loffredo questo funzionario dell'Inps vissuto in presenza di previdenza sociale questo libro gli guadagnerà diciamo così gli farà guadagnare la cattida di demografia all'università di Perugia questo libro del 38 politica della famiglia esce con prefazione di Giuseppe Bottari quindi ecco una certificazione tra le più importanti ancora Loffredo sempre dallo stesso testo l'emancipazione femminile come è contraria agli interessi della famiglia è contraria agli interessi della razza l'intellettualismo l'eguaglianza professionale la libertà sessuale l'impudicizia la promiscuità lo sport mascolinizzano la donna e quindi ne riducono l'attitudine a essere una buona reggitrice del governo domestico è una madre di una figlianza numerosa e sana dicevo prima il virilismo è un codice che attraversa e dà anche forma concreta a vari cambi della politica reale non soltanto della retorica politica ecco per esempio la campagna demografica lanciata da Mussolini nel 1927 in questa operazione per molti aspetti retorica perché non mi avrà molto successo però insomma che vede impegnate molte energie di vari apparati dello Stato il rilancio di una femminilità tradizionale il rilancio della maternità e la protezione del prestigio virile sono strettamente connessi e si collegano alla prospettiva mitica della grandezza militare della nazione cioè il numero è potenza con l'istituzione nel 1933 della giornata della madre e del fanciullo questo doppio messaggio misogino e virilista ovviamente viene ulteriormente rafforzato è una donna che scrive Vanda Goriu il fascismo è una nuova civiltà una nuova maniera di concepire la vita che ha bisogno di soldati siamo nel 1933 questi soldati non può donarli se non lei la madre oscura la giornata della madre e del fanciullo è ordinata appunto allo scopo di suscitare nei giovani uomini e donne questo forte sentimento questo nuovo senso storico della stirpe che deve ridare al cittadino fascista l'orgoglio del civis romano l'imperio al quale tendiamo al quale confessiamo apertamente tendere è appunto questa superiorità evidente dell'italiano che restaura i valori tutti della vita e dà all'uomo la virilità integrale che si protende verso l'avvenire che è sicuro perché egli stesso lo crea un italiano un po' zoppicante ma credo che la sostanza sia molto chiara in realtà certo non bisogna aspettare il 33 o il 38 per verificare un'attenzione come dire o chiuda da parte della cultura fascista nei confronti dell'ortodossia femminile nel 1929 esce un libro libretto un opuscolo molto interessante un famoso giornalista scrittore Umberto Notari che si chiama La donna tipo 3 questo libro è abbastanza interessante perché Notari nel 1929 si iscrive all'interno di questo dibattito sul pronatalismo sulla questione demografica e dice la donna moderna non vuole più fare figli non vuole più farne tanti ma la cosa interessante è che lui dice la colpa è dei maschi perché noi maschi abbiamo rinunciato alla nostra autorità al nostro piedistallo al nostro potere quindi insomma che cosa pretendiamo noi dovremmo faticare di più e farci parlare di più sulle donne che essere i breadwinner a tutto tondo cioè quelli che portano il pane a casa la donna deve rimanere a casa se la donna lavora è moderna si taglia i capelli corti una sera va a ballare va al cinema vede i film americani leggere di vista eccetera moderna eccetera cosa poi che cosa possiamo lamentarci se non vuole più fare film ecco vedete l'immagine di una modernità vi dice questa situazione è figlia del meccanismo industriale di una modernità vista come negativa ma nello stesso tempo con cui ormai nel 1929 non si può non fare i conti e il discorso è un discorso assolutamente sessuato cioè laddove le identità di genere e i loro problemi le loro dinamiche sono esattamente al centro esplicitamente al centro del discorso nel 1931 siamo ovviamente dopo la crisi di Wall Street dell'ottobre del 29 c'è la questione scoppia la questione della cosiddetta donna crisi ne parla molto bene Victoria De Grazia nel suo volume fondamentale Donne al regime fascista cioè arriva a tutti gli organi stampa una velina del sottosegretario tra Stato e propaganda che dice di evitare immagini o descrizioni delle donne troppo magre troppo mascolinezzate che significano stabilità e trasgressione siccome si credeva che questa immagine femminile fosse un'immagine di importazione un modello che viene dagli Stati Uniti e siccome appunto in quel momento gli Stati Uniti nell'immaginario popolare erano la crisi questa figura in questa specie di strega del XX secolo viene rinominata ribattezzata appunto donna crisi nel 39 nel corso degli anni 30 come dire i consumi di massa raggiungono decisamente gli strati medi centimedi non anche la piccola borghesia gli stiti di vita cambiano si tra virgolette modernizzano ulteriormente a fine decennio il cinema hollywoodiano avrà un enorme percentuale considerato che siamo sotto la dettatura fascista negli spettacoli proiettati neci ma la faccia appunto dell'autarchia e quindi l'allarme per le trasversioni femminili visto sempre come appunto un prodotto nefasto della modernità di importazione statunitense è protestante perché naturalmente ci sarebbe anche da esplorare quest'altro versante quello del cosiddetto clerico fascismo questa allarme si intensifica e quindi nel 39 si scrive il fascismo dottrina etica si preoccupa di restituire alla donna la sua missione procreatrice e domestica l'uomo ha la sua dignità maritale e la famiglia ha la sua funzione educativa e sociale perciò esso il fascismo si propone di neutralizzare i veleni diffusi da quella particolare mentalità che all'insegna del comfort ha fievolito l'istinto della maternità e il richiamo morale della specie ma come dicevo in realtà è in diversi ambiti della politica anche sociale che i riferimenti alle relazioni e alle cedarchie di genere entrano praticamente in modo esplicito pensiamo alla cosiddetta campagna ruralista che vuole glorificare ma anche dal punto di vista delle politiche economiche teo molto teoricamente vuol dire avvantaggiare la famiglia patriarcale rurale la campagna demografica l'abbiamo già citata ma anche le politiche del lavoro dal 23 al 38 il regime mara una serie di provvedimenti che vorrebbero scoraggiare il lavoro femminile il mercato del lavoro vorrebbero restringere drasticamente il mercato del lavoro femminile naturalmente parliamo del ceto medio la massaia contadina o l'operaia dal punto di vista della traspettazione della femminilità non dava troppi problemi il vero problema non è che la donna lavori come scrive lo stesso Mussovini negli anni venti la donna ha sempre lavorato in qualche modo il problema è che facendo poi certi lavori dentro un scenario urbano moderno la commessa l'impiegata la dattilogra eccetera eccetera poi comincia a montarsi la testa e quindi magari queste giovani donne che si trasferiscono in città vivono da sole chi le controlla eccetera eccetera le campagne anti-borgesi campagne anti-borgesi assolutamente se vogliamo ridicole ed evanescenti lo stesso Mussolini nel 1938 dice che la borghesia non è una classe sociale la borghesia è uno stato d'animo quindi è chiaro che il fascismo non ha certo una politica economica messo che ne abbia una insomma comunque anticapitalistica nonostante tutti i proclami altisonanti insomma poi senza ovviamente dimenticare tutte le retoriche belliciste e militariste prima nella guerra coloniale nella famosa conquista dell'impero e poi ovviamente nell'inizio della seconda guerra moderna mi avvio a concludere ho provato a sottolineare come pochissimi esempi mi scuso troppo forse stringati come il virilismo a mio avviso non si esaurisce in come dire i fenomeni comunicativi o retorici di sapore quasi folcloristico come forse possono apparire le grottesche trovate istrioniche del Duce come tutti i gerarchi il passo romano il salto del cerchio infocato eccetera la comprensione delle dinamiche retoriche del virilismo secondo me forse ci possono avvicinare a comprendere la funzione che il virilismo ha di linguaggio interclassista come dicevo io capace di rassicurare le masse maschili disorientate dai processi di modernizzazione in cui come dire le cui conseguenze in primo luogo sono l'emancipazione femminile come ho detto addirittura lo spettro del femminismo e la femminilizzazione dell'uomo allo stesso tempo io credo il virilismo non è soltanto una specie di vernice retorica che dà un valore aggiunto all'aggregazione del consenso in un'epoca quella della società di massa ma produce dei concretissimi e pervasivi effetti di potere materiale definendo rigidamente limiti e possibilità della libertà delle persone anche nella vita e soprattutto forse nella vita quotidiana allora se noi forse possiamo considerare buona interessante una chiave di lettura della politica di massa dell'età contemporanea appunto come attraversata dal dilemma gerarchia uguaglianza disuguaglianza disuguaglianza pluralismo il virilismo che è una bandiera ideologica dell'elite maschile sia politiche sia economiche sia militari ha suolto io credo un ruolo non trascurabile nell'affermazione quando questa è avvenuta del principio di gerarchia non è stato il virilismo soltanto una manifestazione di questo principio sul piano di genere una specie di traslitterazione in un alfabeto di genere del principio di gerarchia e neanche io credo un veicolo retorico un meno veicolo retorico del principio di gerarchia è stato un aggregato ideologico che ha goduto di una propria autonoma forza propulsiva e ha inciso profondamente sugli assetti del potere e sui limiti della libertà di uomini e donne naturalmente questo non è avvenuto soltanto nel ventennio però il fatto che certe dinamiche politiche e culturali durante il fascismo si siano dispiegate nella loro forma più clamorosa secondo me rende lo studio del virilismo fascista un momento importante dal punto di vista interpretativo del riconoscimento complessivo delle dinamiche sessuate che sempre io credo segnano profondamente gli spazi della politica e quindi anche gli spazi della libertà e del potere di uomini e donne ieri come oggi grazie grazie mi tocca il ruolo di cerniera tra quanto ha detto quella sei quanto dirà Piretto dunque seppure sinteticamente darà uno sguardo allo spot meglio alle ideologie del corpo sia negli stati totalitari di segni fascista sia in quelli di segno comunista ovviamente con la consapevolezza che si tratta di uno sguardo molto rapido che rischia alla superficialità io partirei da un'immagine si vede si vede si vede dicevo partirei da un'immagine l'immagine è quella dell'inaugurazione dell'Olimpiadi di Berlino del 1936 cioè l'apoteosi sul piano internazionale non solo sportivo di Hitler Lenny di Freestall avrebbe girato su quell'evento un film considerato uno dei capolavori della cinematografia dell'evento del novecento appunto Olimpia e il prologo di quella film compie una lunga carrellata sulla architettura classica per richiamare alcune statue che evocano l'ideale greco di bellezza fisica anzi alcuni critici hanno scritto che quando la Riefenstahl filma gli atleti crea un immaginario carico di tensione sessuale l'immaginario nel quale la regista fa rivivere la bellezza classica nell'immagine dell'atletariano al punto che nei fotogrammi è stato scritto che l'estetica del corpo umano raggiunge a livello quasi immaginistico potete vedere appunto da queste queste immagini ecco potete vedere da queste immagini molto ma molto esplicative fin qui dal punto di vista estetico perché sul piano della politica e delle relazioni internazionali l'impede di Berlino porta a compimento quanto Hitler già scriveva nella Mancana quando sostiene che i due ricordi allenati nello sport inviolviano a parte di spirito offensivo avrebbero potuto trasformarsi in un pari d'anni in un terzo e le olimpiadi di Berlino furono un evento cruciale e consentirono di esibire la grande macchina propagandistica messa in funzione dal regime nazionale socialista attraverso che cosa? attraverso l'esaltazione della forza fisica e quell'evento comunicò al mondo che la Germania distrutta e umiliate in un cagione della prima guerra mondiale aveva ritrovato la sua grandezza ma il modello perseguito dal regime nazista era stato inaugurato dal fascismo perché? perché il regime mussoliniano creò un modello negli anni più tardi invitato da tutti i regimi totalitari del XX secolo e durante il fascismo lo sport assunse un valore non secondario come attività educativa adatta da sviluppare attitudini in sintonia in quella che allora si chiamava appunto la nazione guerriera coraggio ammigazione disciplina volontà disprezzo del pericolo che dovevano costituire le principali virtù dell'attività fisica e la prevalenza della ginnastica subivirgola cioè un'efficace e arcinota espressione appunto di Marinetti si stese le scuole di ogni ordine grado alle organizzazioni giovanili sindacali proprio nel tentativo di allenare il corpo ma non solo il corpo ma anche la mentalità degli italiani si parlava prima mi aveva cenato prima alla modernità in questo senso il fascismo mostra dei lati di una modernità sconcertante e i modelli incarnati dall'Italia sportiva del fascismo dovevano penetrare appunto nel cittadino medio detto per inciso l'Italia non è mai stata prima di allora ma anche in seguito così forte dal punto di vista sportivo pensate solo ai successi della nazionale calcistica vince nel 34 nel 38 i mondiali bisogna aspettare l'Italia con il Paolo Rosso del 82 per capirci e in mezzo ci infila anche la la medaglia che conquista la loro conquista Berlino il 36 nazionale fortissima ma pensate ai ciclisti Girodengo Binda Guerra e verso i primi anni 30 Bartoli pensate alle triangolato oceaniche ma pensate soprattutto a quella allora l'Italia venne definita la nazione sportiva per eccelezza primo Carnera perché perché nessun atleta negli anni trenti incarna il mito dell'Italia guerriera come primo Carnera quando conquista la corona dei pesi massimi siamo nel luglio del 33 quella vittoria viene salutata retoricamente come la vittoria di una nazione suprema e imbattibile e quello lo avrebbe un sapore di tutto particolare se nello uno dei massimi storici del fascismo Renzo di Fenizia è visitata in cui la reincarnera è una delle lezze del consenso appunto dell'Italia 30 e la potenza la forza fisica di Carnera si trasformarono proprio nella gagnardia nella vitalità di una nazione l'immagine di Carnera fu utilizzata per corrente proprio lo stereotipo dell'italiano piccolo del fisico gracile per accreditare che cosa la vitalità la forza e il coraggio del fascismo del fascismo c'è non so se l'avete presente ma c'è un'immagine proprio con la quale si può fare un paragone quella del 1908 l'immagine quella di un atleta Dorando Pietri un maratoneta che crolla sul traguardo a pochi metri e nel sorretto dei giudici viene scolificato quell'immagine di Fese il zero del mondo la Fese il zero del mondo ma offrì nel 1908 un'immagine dell'Italia fiacca un'immagine che crolla appunto sul traguardo ecco l'immagine di Carnera invece che cosa fa riabilitano completamente questo è Carnera che è in corso con la divisa della milizia ecco rovesciano completamente l'immagine dell'atleta e della nazione italiana anche se il comunicatore per eccellenza dell'ideologia fascista in materia di sport fu venuto Mussolini il culto della personalità del luce fu costruito anche grazie alla sua immagine sportiva perché Mussolini venne a personificare quell'ideale proprio del vivere pericolosamente nel quale l'italiano medio avrebbe dovuto identificarsi perché lo sport come attività di massa avrebbe dovuto stabilire una nuova dell'archivio avrebbe dovuto essere espressione di uno stile basato proprio sulla supremazia del più forte velocità giovanilismo virilismo dinamismo sportismo e Mussolini sul piano propagandistico interpreta le qualità del superuomo niziano come nessun uomo politico aveva fatto in precedenza in realtà più che un personaggio politico classico Mussolini sembra costituire la rappresentazione simbolica delle migliori qualità dell'inteletta se voi andate a vedere ci sono fotogrammi dell'istituto Duce che lo ritraggono a Torso Nudo sono tutti fotogrammi che avete sicuramente visto mentre guida un'automobile mentre va in motocicletta mentre nuota mentre scia e così c'è una definizione molto bella questa è un'immagine che c'entra moltissima di un antropologo americano che ha scritto che Mussolini rappresenta il maggior atleta politico del periodo verso l'istituto e per comprendere meglio proprio l'esasperazione dell'avventura del corpo da parte del fascismo più occorre richiamare le polemiche che negli anni trenta si svolsero ad esempio con il mondo cattolico in particolare sul problema dello sport femminile perché all'interno del fascismo esistono due correnti da una parte come veniva richiamato poco fa c'era qualcuno che si opponeva alla donna atleta perché si pensava appunto alla mascolinizzazione del corpo ma c'era tutta un'altra corrente che diceva no bisogna assolutamente fare sport perché attraverso lo sport la razza e quindi le madri italiane possono migliorare ma chi non aveva invece dubbi sul fatto che le donne non dovevano fare lo sport erano i cattolici che hanno una posizione molto particolare sullo sport femminile ma anche sullo sport maschile perché già negli più 11 siamo negli 29 delle cifiche rappresentanti in terra stigmatizza quelli che definono gli eccessi dello sport di regime e se la prende come quelli che ancora una volta vengono definite l'esagerazione del materialismo sportivo che cosa si intendeva per materialismo sportivo lui si zedda che è il grande orchestratore della propaganda cattolica sarà presidente della giunità cattolica negli anni 30 poi negli anni 50 anzi sarà quello che farà poi confluire tutte le strutture sportive del coni all'interno appunto del mondo cattolico si laurea la cattolica con una tesi poi confluti in un volumetto che si chiama appunto lo sport e zedda condanna appunto le esagerazioni del maderismo sportivo si chiede il giovane cristiano deve avere per ideale Ercole o Carnera sarebbe una cosa tale e che cosa fa crea anche un modello qui di zedda un bel po' che viene costruito in laboratorio quello di genovattari il magnifico architetto cristiano si chiamava allora e quando parlava zedda di esagerazione del materialismo sportivo ovviamente se la prendeva soprattutto con l'esebizione della forza fisica con un bugile come 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 Carnera e Gino Bartoli si discosta alquanto dall'atleta di regime che è l'espressione dell'uomo nuovo del fascismo no l'uomo nuovo del fascismo attraverso ostentazione di una virilità spesso accompagnata da subintesi giornalistici da un largo contorno di di allusioni sessuali anzi Bartoli rappresenta un modello in certo qual modo alternativo a quello dell'esemplare attività fascista che si allontana molto poco dagli stereotipi di regime leggo solo una frase è un linguaggio molto siamo a metà del 36 37 sulla rivista della gioventù cattolica italiana viene esaltato Bartoli e si critica l'atleta fascista Bartoli viene presentato come cito testualmente casto per convenzione morale genica che non tiene a distinguersi per essere un porcelino scatenato proprio era quella che loro si chiamava una presa di posizione è proprio quella che loro si chiamava la filosofia da casino proprio fra l'altro Vittorio Posto è una notizia che venne fatta circolare ovviamente ad arte portava siamo alla coppa del mondo del 1934 quando gli italiani trionfano portava dopo ogni vittoria i calciatori vittoriosi alla casa di appuntamento era proprio una quando tra l'altro c'era quando il football fa il suo esordio in Italia siamo all'inizio del del novecento il football è di origine inglese viene osteggiato soprattutto dagli ambienti cattolici perché viene osteggiato intanto perché era protestante ma soprattutto perché ci sono lettere pastorali delle quali poi faccio una citazione c'era timore che potesse veicolare l'orribile fomentare l'orribile delitto della pederastia nel senso che ci si toccava i mischi gli spogliatori quindi c'è non è vero che il calcio in Italia sia nato degli oratori assolutamente c'era questa fobia da parte dei vescovi perché in un mondo votato alla rudezza all'ostentato il virilismo l'omosessualità non è poverata tenendo presente che molti giocatori fra l'altro della Inventus del Napoli e anche della Nazionale sono allontanati proprio con l'accusa di essere omosessuali e di attentare l'immagine del virilismo sportivo e noi questo quindi per quello che riguarda il fascismo negli stati comunisti John Opperman un antropologo americano quello che ha definito appunto Mussolini maggiore atleta politico degli anni 30 ha anche scritto che Fidel Castro è un fenomeno straordinario che rappresenta le immagini più carismatiche di un atleta uomo di Stato da Mussolini credo sia noto a tutti tra l'altro il carisma fisico di Castro l'interesse di Vittorio Copano per lo sport sono dei venuti anzi leggendo Castro il baseball eccetera eccetera questo cosa vuol dire? vuol dire che il dittatore di uno Stato fascista e quello di uno Stato comunista sono considerati come i due maggiori atleti politici del novecento quindi a questo punto di vista non sembrerebbe essere un'indifferenza tra l'utilizzo dello sport da parte di regime totalitarie di segno fascista e di segno comunista c'è un fatto però che la valorizzazione dello sport parli di Stati comunisti ha origine nell'Unione Sovietica negli anni 30 sotto Stati no? perché? perché durante gli anni di Stati venne varato un programma destinato a trasformare lo sport come per il fascismo dovresti in uno dei veicoli principali della base comunista la pratica sportiva viene concepita non solo come un mezzo per incrementare appunto le relazioni internazionali viene concepita come una forma di socializzazione politica tant'è che alcuni studiosi non hanno esitato a considerare l'atleta sovietico come il corrispettivo sportivo del lavoratore stacanoista cosa vuol dire? la conquista del record e del primato sia nel lavoro che nello sport che diviene uno degli obiettivi della costruzione del comunismo tenete per dire solo questo che nel secondo dopoguerra l'Unione Sovietica negli anni 30 o anche alla fine degli anni 40 quando riprendono le Olimpiadi siamo nel 48 non si presenta sul proscenio internazionale non partecipa proprio alle competizioni perché facevano all'interno degli stati facevano le spattachie di quello che carizzavano appunto fra di loro che non c'è ancora il confronto con le potenze occidentali ma quando l'Unione Sovietica fa il suo esordio olimpico a Helsinki siamo nel 52 conquista 71 medaglie contro le 76 degli Stati Uniti ma già nel 56 l'Unione Sovietica si perca al primo posto con 98 medaglie d'oro contro le 74 degli Stati Uniti se poi noi sommiamo le medaglie dell'Unione Sovietica con quelle di tutti i paesi del patto di Varsavia la DDR in testa la patria di quelli che sono stati definiti appunto gli ormoni del comunismo per l'uso esagerato di steroidi di anabolizzanti delle cose che sapete ecco se sommiamo queste medaglie il blocco comunista risulta ovviamente vincente sul piano sportivo con fronte del mondo occidentale ecco di fronte a questi dati ci pone fra un interrogativo che è questo è lo sport meglio l'ideologia del corpo è di destra o è di sinistra e la domanda per quanto possa avverire banale è legittima se andiamo a leggere loro docenti in poi quanto hanno scritto marxisti radicali socialisti a proposito di delle patrose di sport Engels plecano su tutti hanno più volte dichiarato la loro avversione nei confronti del corpo Weber sociologo americano la teoria della classe Zata parla del carattere sportivo come di una riabilitazione del primitivo istinto barbarico John Opson che è l'autore del 1902 primitivo sistematico sull'imperialismo individua l'essenza dello sport in un arcaico istinto predatorio nel caso siamo negli anni 40 un intellettuale di destra come dirò la Rochelle disprezzava cittestualmente la sciatteria degli uomini di sinistra il loro atteggiamento sdemioso verso ogni tipo di orgoglio corporale e si tratta fra l'altro di pronunciamenti che trovano un'applicazione pratica perché noi andiamo a vedere l'atteggiamento della sinistra europea all'inizio del novecento per lo meno fino ai anni trenta è lo sport come viene considerato uno strumento della borghiglia cristalistica addirittura c'è un congresso siamo al congresso della federazione giovanile socialista di Firenze nel 1910 in cui viene votato in unanimità un ordine del giorno nel quale si dice che tutti quegli iscritti al circolo del mondo socialista che fanno attività sportiva saranno automaticamente espulsi no? state che poi ci provano a fare le gare a fare le loro cose sono stati considerati questi primi socialisti che fanno dello sport organizzano le gare senza dare medagli perché il criterio della competizione non deve esserci assolutamente ma poi ci sono gare che durano pochi anni perché io credo che la forisma più più poca del novecento sia quello di Degubertel l'importante vince l'importante è partecipare assolutamente l'importante vince perché l'organizzano non tre competizioni di questo tipo dove non danno i tagli non ci va di nessuno questo che cosa vuol dire? vuol dire che almeno dal punto di vista teorico non si può neanche condividere giudizio di quanti parlano di una rinuncia al corpo da parte della sinistra e del marxismo in particolare almeno dal punto di vista teorico e un paragone fra i modelli fascisti e marxisti porta due importanti conclusioni in primo luogo è l'ideologia fascista e non per la marxista che utilizza persino esalta gli elementi del temperamento sportivo perché il sogno della verità dinamica che tratteggia in maniera enfatica il corpo perfetto inteso come simbolo di forza è stato un tema obbligato ad una cultura fascista di una cultura di destra è chiaro che se andiamo a analizzare l'evoluzione dei paesi comunisti a partire dagli anni trenta la conclusione non può essere che quella da quale giungono i studiose di città rubrina secondo i quali l'importanza data allo sport nel paese del comunismo reale ha costituito una violazione degli assunti dell'antropologia marxista i marxisti non ostentano il corpo malamente sotto questo punto di vista dunque la pratica è puntata di un'originale topologia marxista un'ultima notazione che ci riporta al nazismo il successo il successo dell'olimpiade di berlino del 1936 fu per certi aspetti inspiegabile inspiegabile ci si considera il fatto che quella di berlino va considerata come la prima olimpiade moderna presentemente l'olimpiade di berlino questi appuntamenti si svolgevano giovani nei padiglieri dell'espo a lato di manifestazioni commerciali invece a berlino per la prima volta si costruisce un villaggio olimpico per la prima volta vengono stabiliti tutti quei rituali olimpici ai quali si stiano un coraggio tipo la fiamma olimpica che da olimpia parte e arriva a berlino quindi c'è proprio una consapevolezza di fare dello sport uno strumento di relazioni e di e di propaganda e paradossalmente non ci fu alcuna nazione che dei ritorni boicottati nonostante siamo nel 33 le leggi razziali ci fossero già da 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 tre anni ci fossero state promulgate fossero ampiamente applicate tant'è che l'applicazione delle leggi razziali provocò l'espulsione da palestre piscine cambi di calcio di atleti proprio di un'altra e stessa sorte toccò ad esempio ai giornalisti sportivi i tecnici gli allenatori di squadre di diverse discipline ci sono campioni di grande levatura penso ad esempio al pugilato penso al al tennis proprio di di atleti che vengono e quali di un impedito di garezzarlo negli anni 30 ma a parte il caso di campioni affermati furono migliaia di giovani costretti ad abbandonare l'attività sportiva perché non appartenenti alla razza riana in linea della sorte un episodio noto stranoto quando un atleta di colore di cuore per la nazionale rilicana Jesse Owens si aggiudica quattro medaglie d'oro diventa il primo fattore del rinchiere di Berlino e si racconta che gli si racconta abbandonasse uno stadio per non stringere la mano che è ritenuto di una razza di una razza interiore molto è stato scritto sulla mortificazione del corpo da parte del nazismo in pratiche esperienze come quelle del campo di concentramento di sterile poco si sa di un aspetto come quello dello sport in quei luoghi di tragedia di morte perché lo sport in cui luoghi diventò un strumento di struttura fisica e psicologica pensate che nel linguaggio del nazismo il termine sport è quello di l'impiede di Berlino nel film della rinchiere ma dalle leggi razziali in poi fare sport sport machen poteva significare dare la cazza agli ebrei infesi far sopportare le loro omigliazioni fisiche dare loro la morte per quanto possa apparire surreale l'universo concentrazionario registra vari avvenimenti sportivi nei campi di internamento immagine durante i rastrellamenti non lo trovo comunque dato da Berlione durante i rastrellamenti tra l'altro ci sono foto incredibili appunto degli ebrei dell'assessi che fanno uscire dalla fila gli ebrei in una bellissima di uso perché si è persa in una stranamente salomicco dove dove gli ebrei vengono dove gli ebrei viene imposto appunto di fare esercizi esercizi fisici ma ci sono tantissimi tantissimi raccontate moltissime storie di campioni soprattutto di bugilato che vengono internati e vengono obbligati a combattere fino allo sfinimento 70-80 riprese nei campi di sterminio ma soprattutto vennero reclusi alcuni fra i più rappresentativi atleti dello sport ebraico e vengono organizzate gare fra i prigionieri o fra i prigionieri soldati del campo le immagini più grammatiche sono queste che vi sto facendo vedere siamo nel 23 giugno del 44 quindi a pochi metri dell'azione la croce rossa compie una una vista al campo di terzi al ghetto di terzi e per mostrare scene di vita idilie che nel campo vennero organizzate gare sportive come queste di atletica ma addirittura viene organizzata una partita di calcio qui potete sono fotogrammi che vengono dal memorial della Shoah di Parigi siamo nel 44 la croce rossa assiste per le gare cosa vuol dire che a valle in definitiva quella messa in scena quindi lo sport in regime totalitario come esaltazione del corpo ma anche come in queste immagini come mortificazione materiale morale difficile quindi grazie grazie a tutti grazie a tutti che insegno che insegno cultura russa e cultura visuale all'università statale di Milano e la presentazione che vi propongo questa sera è un po' la sintesi di questi due metodi disciplinari quindi un intervento sulla cultura sovietica attraverso le immagini il macismo russo nel paese dei soviet l'ho intitolato perché le matrici del macismo affondano nella storia secolare del paese non sarebbe stata una invenzione sovietica quella di privilegiare la dominante maschile anche se a differenza di quanto è successo nel fascismo italiano non ci sarebbe mai stata una istituzionalizzazione del discorso della virilità o del virilismo qui ci sono alcuni volti sono molto noti altri forse meno Kugaciov il capo della rivolta contadina Maxine Gorky il monaco Santone Rasputin gli immancabili poeti Mayakovsky e Sienin e il cantautore sovietico Vysotsky che sarebbe stato forse uno degli ultimi macio dell'unione sovietica comincio convenzionalmente dagli anni successivi alla rivoluzione d'ottobre al cosiddetto comunismo di guerra gli anni della guerra civile che avrebbe portato molti ragazzi ad abbandonare la famiglia rimasti orfani o abbandonati da genitori dispersi fucilati o caduti in guerra questi ragazzi si sarebbero raccolti in gruppi in vere e proprie bande che sarebbero state sfruttate tra l'altro da gli immancabili residui di delinquenza che la rivoluzione d'ottobre non era riuscita ancora a devellare e fra di loro sarebbe nato un grosso bond quindi quello che oggi si chiama mail bonding una grande solidarietà grande disprezzo per le figure femminili virilità esaltata e da un lato prostituzione anche se molto ridotta e soprattutto invece borseggio al punto che essendo le loro vittime i borghesi della NEP della nuova politica economica la polizia chiudeva un occhio perché rubare ai borghesi era considerato all'epoca politicamente corretto molti di questi ragazzi sarebbero confluiti nelle comuni lavorative il grande pedagogo di cui adesso mi sfugge il nome ma ve lo dirò dopo aveva scritto un libro un romanzo molto importante che la pedagogia europea avrebbe raccolto e su cui si sarebbe basata per anni molti film sarebbero stati costruiti su queste esperienze tutto rigorosamente armistile come se non esistessero ragazze di strada o il fenomeno al femminile non trovasse riscontro sappiamo che esistevano ma erano usate un po' come le ragazze da bordello o da saloon con cui ci si diventava ma lo Stato non prestava loro neppure particolare attenzione tutti questi film esaltano uno il più famoso un biletto di viaggio per la vita del 1931 ed è anche il primo film sonoro della storia del cinema sovietico l'altro la Repubblica Shkid è degli anni 60 ci sono in tutti molte scene di nudi maschili questi ragazzi che vanno o fanno la bagna cioè la sauna o vanno a prendere la biancheria pulita oggi sarebbero immagini sicuramente omoerotiche all'epoca questo problema non si poneva e attraverso questo artificio si sottolineava la grande solidarietà un po' il gioco da spogliatoio a cui è stato fatto riferimento in precedenza successivamente ci si organizza anche sul fronte politico nasce il Consomol cioè l'organizzazione giovanile del partito comunista e i Consomolzi e le Consomolchi esistono naturalmente al maschile e al femminile giocano ancora sulla prestanza fisica e tutto viene strettamente legato allo sport nasce un'associazione detta Geteo pronti al lavoro al lavoro duro e alla difesa quindi già si ipotizza la necessità di dover difendere i confini da qualcuno quindi la preparazione fisica è anche pensata in chiave militare questa è simbolicamente anch'io naturalmente ho scelto alcune tappe che ritengo più importanti tralasciando una serie infinita di sfumature questa è la donna sovietica come doveva apparire negli anni venti era una donna lo vedete mascolina con i capelli molto corti doveva portare immancabilmente il fazzoletto rosso legato non come facevano le antiche contadine sotto il mento ma dietro la nuca e nella foto di sinistra tiene in mano il bastone della bandiera presumibilmente ma potrebbe anche essere la canna di un fucile che si combina idealmente con i ciminieri che fanno la sfondo visto che la fabbrica era il luogo ideale per l'antonomasia gli uomini erano ancora al fronte la donna non doveva assolutamente stare in casa quindi non si pensava neppure lontanamente al focolare domestico anzi la pianificazione degli architetti costruttivisti prevedeva appartamenti in cui la cucina non esistesse più nel manifesto di destra si vede si inneggia a basso la servitù delle cucine dai mettice la tutta liberati quindi la donna liberata vestita di rosso mentre in basso ci sono tutte le tracce ecco qui nella parte nella parte oscura c'è la donna che ancora fa il bucato c'è il famigerato fornello a spirito su cui preparava il cibo ci sono i panni stesi mentre la luce che viene dalla finestra porta la mensa collettiva dove cuoche stipendiati avrebbero cucinato per tutti o ancora meglio le cosiddette fabbriche cucine in cui si sarebbero preparate decine di migliaia di pasti che sarebbero stati distribuiti poi in tutta la città la donna non aveva né tempo né voglia di curare la propria femminilità non si pensava alla moda era una donna che sostituiva l'uomo che era in guerra e secondo gli insegnamenti le teorie di Alexandra Kolontai la prima grande femminista russa amica e collaboratrice strettissima di Lenin si pensava si pareva che in quegli anni l'Unione Sovietica sarebbe diventata il paese della liberalizzazione sessuale in assoluto utopia naturalmente il riscontro la degenerazione avrebbe portato a far sì che la popolazione maschile avrebbe sfruttato molto volentieri questo stato di cose quindi amore libero basta copie chiuse basta con i sentimenti borghesi di possesso e di gelosia si viveva nelle comuni comuni intese come falasterio alla foyer e ci si sarebbe dovuti scambiare il partner o la partner senza ricorrere a vecchie modalità i menage a trois all'epoca erano ricorrenti con diversi riscontri in ambito intellettuale sono molto noti quelli di Mayakovsky per esempio dei poeti simbolisti che potevano permettersi di passare da una donna all'altra di scambiarsene inframmezzando queste esperienze con investimenti poetici artistici nelle classi meno colte il problema sarebbe stato invece molto concreto una crescita tragica degli aborti perché la popolazione maschile approfittava come già ho detto la popolazione femminile subiva c'è un film del 28 straordinario che si intitola la terza via della piccola borghesia più noto come con il titolo apocrifo di letto o divano o amore a tre in cui una donna che vive col marito in un piccolo seminterrato a Mosca ospita temporaneamente un amico un compagno di guerra di armi del marito che era arrivato Mosca dalla campagna dalla periferia per cercare lavoro il marito viene mandato fuori per una missione professionale nel frattempo l'ospite dal divano si trasferisce al letto quindi nasce questo rapporto di alta venanza tra il letto e il divano la ragazza rimane incinta va in una clinica dove si praticava l'aborto resta disgustata dall'immagine filistea che le signorine bene offrono e decide secondo l'insegnamento di Alexandra Colontai di tenersi il bambino dicendo sarà un bambino comunista ci penserà lo Stato lo manderò all'asilo statale abbandona i due marito e amante che restano da soli nella stessa casa giocare a scacchi e mangiare la marmellata che lei aveva preparato lo sceneggiatore di questo film è restato niente meno che Viktor Klovski quindi uno dei più importanti formalisti russi che anni dopo avrebbe commentato la propria scenografia la propria sceneggiatura scusate non scenografia ma sceneggiatura dicendo alla fin fine devo ammettere che l'unico l'unica conclusione l'unico ruolo che si poteva riservare alla donna russa era di farla uscire di scena di andarsene via allora retoricamente celebrato come grande scelta di grande forza d'animo ma in realtà si è soltanto tolta di mezzo e i due sono rimasti molto tranquillamente da soli anni 30 il passaggio allo stalinismo avrebbe portato naturalmente grosse modifiche avrebbe sarebbe stata ripensata la sobrietà prima si è parlato di comodità del vivere comodo e del lusso tanto il polivocenismo più puro aveva investito sulla essenzialità sulla spartanità sulla sobrietà i mobili costruttivisti dovevano essere scomodi banditi i cuscini i banditi i paralumi il bandito tutto ciò che fosse imbottito sta l'indice per i miei staccanolisti eroi del lavoro e lavoratori d'assalto io voglio anche il lusso voglio appartamenti comodi voglio automobili private voglio divani voglio cuscini voglio abiti belli e così via naturalmente ecco quanto era stato commentato prima verso nuove vittorie nel lavoro e nello sport per cui in parallelo investimento professionale e investimento sportivo in ambito professionale si parlava di competizione socialista ed era il termine lessicale politicamente corretto rispetto alla concorrenza dei paesi capitalisti quindi incentivazione a produrre di più a produrre meglio esattamente come in ambito sportivo cominciano le grandi parate sulla piazza rossa che perdono la loro matrice carnevalesca spontanea autentica e popolare che avevano avuto negli anni venti e diventano teatro organizzato serialità corpi perfetti maschili e femminili che non si distinguono l'uno dall'altro un po' come succede oggi nelle terribili parate della Corea del Nord dove appunto a passo dell'oca continuano a sfidare migliaia se decine di migliaia centinaia di migliaia di persone serialità tutte uguali e tutti uguali il corpo deve essere perfetto chiunque soffrisse di handicap fisici o psichici veniva allontanato la storia ha poi rivelato che esistevano dei gulaguerie propri dove venivano confinati gli handicappati di ogni genere negli anni della guerra Michael Martin filosofo critico letterario avrebbe dedicato un saggio a Granatois Montagruel di Rabelais per esaltare il cosiddetto corpo grottesco i censori sovietici non così stupidi come si pensa di solito riconobbero la metafora e il volume fu bloccato sarebbe stato pubblicato in urso negli anni 60 quindi corpo grottesco messo a bando vedremo quando e come sarebbe tornato in auge questa è una fotografia di Grimberg del 1933 dopo il lavoro la doccia dopo il lavoro ancora una volta molto vicina all'omorotismo o all'immaginario gay all'epoca ripeto non se ne parlava Alexandre Deineca uno dei più grandi forse il più grande pittore dell'organismo socialista sovietico avrebbe ripreso l'immagine facendola diventare quadro notate come in questo quadro ancora ancora c'è qualche organo sessuale riconoscibile solitamente i nudi dovevano essere intanto ispirati al classicismo e non avere traccia qui sono sotto la doccia quindi sono legittimamente bagnati ma non doveva esserci né sudore né ogni forma di liquido fisiologico né tantomeno accenni erotici o sessuali c'era una pulicizia estrema tremenda una grande paura di scadere nella pornografia e di conseguenza i nudi sia maschili che i nudi dovevano essere quanto più asettici e naturalmente perfetti le donne quando le donne tornano in tornano a galla per così dire tornano a essere privilegiate nei momenti storicamente strategicamente importanti abbiamo già visto durante la guerra civile una donna mascolina responsabile corrucciata molto concentrata sul proprio impegno vediamo nell'ambito della collettivizzazione della collettivizzazione forzata delle terre uno dei due grandi campagne staliniane in parallelo all'industrializzazione massiccia due manifesti in cui si dice le donne sovietiche le donne nei kolkos quindi nelle fatterie collettive sono una grande forza firmato Stalin eccole un altro quindi si parla alle donne perché il messaggio arrivi agli uomini e qui torniamo ad un'antica problematica della civiltà russa matriarcato o patriarcato molti decenni fa Evelyn Gasparini scrisse un saggio ancora oggi fondamentale intitolato il matriarcato slavo di fatto la donna era colei che teneva in piedi dalla famiglia alla situazione generale al villaggio al lavoro il marito era spesso alcolizzato dei ure i carichi importanti i carichi ufficiali erano rigorosamente maschile nelle fattorie collettive ci si rese conto ben presto che la deficienza o la passione per il lavoro scarseggiava e allora si decise di aggirare di bypassare l'uomo e di rivolgersi alla donna stimolando lei a produrre e ad essere responsabile nell'auspicio che avrebbe trascinato anche uomini e mariti in parallelo le donne avevano diritto a tornare femminili ai profumi questo manifesto dice l'illà acqua di colonia e profumi dall'aroma intenso alle donne russe il profumo piace che si senta abbiamo dibattuto anni fa con una lettrice un'insegnante di madrelingua quando io studiavo russo all'università di Torino e lei spiegava così alle mie compagne di corso voi avete le vostre belle camicette di seta potete mettervi profumi delicati noi avevamo le giacche imbottite di ovatta e altro che avevamo se ci metteravamo il profumo doveva essere forte perché doveva vincere tutto il resto quindi questo concetto ritorna anche ecco la donna truccata la donna ben pettinata ben vestita tutto ciò che non era più fuori legge anzi ecco quest'altra usa una saponetta profumata e il discorso è ancora lo stesso ho citato il problema dell'alcolismo piaga ricorrente al maschile rigorosamente al maschile stessa cosa stesso tipo di discorso di coinvolgimento si ci si rivolgeva alle donne un padre ubriaco è la sciagura della famiglia e qui si condanna ecco questa è la figura ancora del culato del contadino ricco borghese che viene collegato idealmente all'alcolismo e alla bottiglia in molti altri manifesti sarebbero state le feste religiose a essere ritenute responsabili dell'alcolismo quindi il contadino che usciva dalla funzione di Pasqua traballando con la bottiglia sotto braccio oppure questo in ambito lavorativo basta questo è l'ultimo avviso dopodiché si correrà ai ripari questo negli anni 50 naturalmente è stato parodizzato nella Russia post-sovietica decine centinaia di volte il giovane per bene ben vestito a posto che dice no al bicchierino di vodka che gli viene offerto viceversa nella realtà quotidiana la vodka la bevuta la druzeska iapapoika la bevuta in compagnia era ricorrente e immancabile nel bene e nel male quando poi molto spesso si superavano i limiti il finale era tragico e le donne avevano orrore per l'alcol o perlomeno ostentavano quando a fine pasto rimancavi le brindisi finale allora dicevano una goccia una goccia soltanto una goccia per me pochissime erano le donne alcolizzate mentre al maschile il fenomeno era davvero tragico qualcuno c'era una tuttora esiste un gioco cosiddetto delle multe se si arrivava in ritardo a un appuntamento per ogni minuto di ritardo si doveva avere un bicchiere di vodka qui c'è proprio scritto della multa il bicchiere fatto per la multa e altra forma di macismo il bagno nel ghiaccio spezzando il ghiaccio ci si tuffa c'è anche una tradizione legata alla religione ortodossa che lo prevede e naturalmente il bicchierino di vodka e il solito bonding il solito male bonding scene molto poco edificanti uomini ubriachi vicino ai chioschi che vendevano birra o vodka e la donna questa forse è costruita non garantisco che sia autentica ma lo stato di cose che rappresenta ho visto io con i miei occhi molte donne portare di peso a casa il marito ubriaco la sera gli anni della guerra la donna ritorna maschile gli uomini combattono e già stato detto anche rispetto al fascismo italiano le donne non restano al focolare domestico contraddicendo la nostra Miss Italia che sembrava essere convinta del contrario le donne il manifesto di destra dice li sostituiamo ecco i soldati che vanno al fronte e la donna tornata mascolina tornata a indossare il convenzionale fazzoletto rosso che dice il fascismo è il peggior amico delle donne tutte nella lotta contro il fascismo mentre l'uomo combatte al fronte la donna combatte e costruisce armi nelle fabbriche questa venisse vita per smentire una interpretazione in chiaro occidentale queste sono un soldato russo un soldato ucraino tra l'altro di tragica attualità oggi che si baciano sulla bocca non c'è nulla di omosessuale naturalmente è un'abitudine dei popoli slavi è stata usata molto impropriamente oggi anche da certe associazioni gay non ha nulla a che vedere con l'omosessualità è semplicemente una tradizione e una convenzione anche politica dopo la guerra anche in urs come in molte altre realtà totalitarie gloria alla madre eroina 11 figli e la donna aveva medaglie e alcuni privilegi particolari quindi torna l'idea che già con Stalin era stata promossa dal 28 in poi durante il primo piano quinquennale mettiamo al bando il divorzio l'aborto l'omosessualità e si torni al nucleo familiare che con la condanna delle cucine era stato demonizzato negli anni per così dire dei miniani un punto estremamente interessante fine anni 40 1949 primi anni 50 la prima sottocultura giovanile gli stiliari stile vuol dire stile iaga è un suffisso peggiorativo della lingua russa quindi i malati dello stile giovani che su modelli occidentali molto fantasiosi perché nessuno in realtà sapeva cosa fosse l'occidente si erano inventati abiti e comportamenti che avrebbero preso talmente piede da preoccupare il regime sovietico che sarebbe corso ai ripari il problema numero uno eccolo qua era l'effeminatezza questa è la commissione che distribuisce i posti di lavoro dopo la laurea e a questo giovanotto si dice sarà mandato a lavorare in Siberia e lui risponde in Siberia e a chi consegno a chi lascio la mia via Gorki cioè la via centrale di Mosca lungo la quale per ben preciso isolato questi giovani stiliari passeggiavano facevano la vasca dalla mattina alla sera molte vignette satiriche la rivista Crocodili il coccodrillo si sarebbe scatenata a combatterli qui sono definiti funghi velenosi quindi camicie pseudo-hawaiiane naturalmente tutto realizzato in casa la solita camicia sovietica il solito pantalone sovietico che la mamma la sorella o la fidanzata rielaboravano disegnando cravate disegnando ananas o scimmie sulle cravate e allargando i pantaloni per farle arrivare alla zappa delle fatte i giovani del Consomol andavano in giro armati di forbici e fisicamente tagliavano le cravate tagliavano i capelli troppo lunghi ai loro colleghi ai loro compagni che fossero caduti eccole qui un'altra vignetta dice con la macchina di papà erano tutti figli di buona famiglia dunque un rischio particolare una condanna particolare di questa femminilizzazione un titolo che ha fatto storia oggi suoni o ascolti il jazz domani tradirai la patria quindi chi ascoltava quella musica che Giagorchi nel 1928 aveva definito la musica dei grassi e degli uomisessuali rischiava di fare questa brutta fine come sarebbe intervenuto il potere sovietico con una campagna virilizzante il dissodamento delle terre vergini chiamando i giovani ad abbandonare famiglia genitori casa e ad andare all'avventura a dissodare le terre vergini quindi vivendo nelle tende in campeggio dormendo sotto le stelle e lavorando e producendo quindi dimenticando mollezze e mode contaminate dall'influenza borghese occidentale e riscoprendo l'autenticità dell'orgoglio sovietico molti raccolsero questo messaggio così come il potere lo aveva proposto ecco alcuni manifesti che si riferiscono a questo stato di cose andiamo verso le nuove terre insieme c'è una ragazza qui in fondo ma vedete che la dominanza è maschile questo avrebbe influenzato soprattutto il percorso meno vicino all'ufficialità moltissimi giovani sognando di andarsene dalla famiglia dalla casa dagli appartamenti in coabitazione avrebbero raccolto questo invito ma adattandolo ad esigenze meno ideologicamente politizzate sarebbero stati chiamati i turisti quindi i primi viaggiatori alternativi c'è un romanzo di Vassili Axiono tradotto anche in italiano che si intitola il biglietto stellato che racconta proprio come nel 1961 quattro giovani moscoviti tre maschi e una ragazza decidono di andare nei paesi baltici a fare le prime vacanze da solo sono i 17 anni e inizialmente vogliono partire in tre la ragazza dice e io chi sono le rispondono dovremo vivere di caccia e di pesca dovremo dormire nelle tende lei dice anch'io naturalmente il modello per tutto questo chi era? quello che avrebbero chiamato gergalmente convenzionalmente papà Hem eccolo qua Hem è Ernest Hemingway i cui romanzi negli anni del digelo frusciomiano sarebbero stati tradotti dopo i decenni statuniani in cui erano stati emessi al bando soprattutto il vecchio in mare e per chi suona la campana il modello Hemingway di macismo cubano americano avrebbe vinto e inizia una specie di gioco alla Hemingway ci si diceva per riconoscersi intanto tutti i maschi si sarebbero fatti crescere alla barba tutti avrebbero cercato di procurarsi dei maglioni di questo genere e lo slogan ricorrente era mi berrei un martini e l'altro per dimostrare di essere adepto avrebbe risposto sì ma con un'oliva naturalmente non c'erano le olive e le martini c'era la vodka ma era un po' il discorso da iniziati e lo slogan dell'epoca era la colpa più grande sarebbe stato mettere da parte la vodka per una ragazza baba in termini molto molto meno eleganti quindi sono tralucendolo che sarebbe preferire la figa alla vodka non si deve prima viene la vodka e poi se ci sono le ragazze sappiamo noi cosa farle come Papa Hem insegna in ogni stanza di intellettuale o pseudo intellettuale il rifatto di Hemingway sarebbe stato immancabile eccolo qua molto macio e molto modello l'ironia del solito della solita rivista questi sono i vecchi e il mare facendo il verso al titolo del romanzo giovanotti barbuti con la chitarra scoperta nell'epoca lontani da casa sulle spiagge del mar baltico naturalmente una ironia molto più amabile di quella che era stata riservata agli steliaghi di prima accelero qui si dice negli anni 50 anche ai maschietti impara a fare tutto da solo a cucinare a cucire al femminile ecco questo non tocca a me dice la spocchiosa ragazza mentre la nonna lava i pavimenti anni 50 se vuoi essere sano temprati quindi lavati con l'acqua fredda e finestre sempre aperte qui si scomoda Mayakovsky non c'è al mondo abito più bello del bronzo dei muscoli e della freschezza della pelle e questo è il ritornello che avrebbe svegliato tutti i cittadini sovietici la mattina per radio alzati per fare ginnastica e non farai tardi al lavoro la sigla di questa di questa trasmissione radiofonica avrebbe accompagnato la vita di intera generazione sarebbe stata naturalmente parodizzata a sua volta se vuoi essere come me allenati andiamo veloce lo sport è salute forza di volontà e coraggio coraggio in russo si dice vuzestva vuz è l'uomo il marito quindi la radice di coraggio viene da maschio da uomo compagni tutti a fare ginnastica ed ecco la radio la finestra regolarmente aperta tormentone vero e proprio due parole sul macismo politico tutti i segretari del partito sarebbero stati uomini sarebbe necessario un'altra diramazione forse un altro convegno per parlare del ruolo delle first lady cito soltanto molto a passant che l'unica prima vera first lady come l'occidente mi intende sarebbe stata Reissa Garmashova non a caso i russi avrebbero detestato sia lei che il marito anche e soprattutto per il ruolo che lui avrebbe affidato alla moglie quindi questo politbure schierato sempre fatto di tutti i uomini la prima donna ministro sarebbe stata non a caso nel digeo fruscioliano di Petirina Furzeva ho scelto una foto un po' cattiva nei suoi confronti a fianco ecco due modelli di femminilità a confronto la splendida Sofia Nore in visita a Mosca e la Furzeva che sembra guardarla come se ne guardasse qualche cosa di sovrumano e Sofia Nore addirittura ai pieni di Venin che esalta la propria bellezza il proprio seno prorompente e lo splendore del suo corpo un altro luogo che meriterebbe attenzione specifica è la bagna cioè la sauna dove si andava rigorosamente fra uomini e fra donne rito iniziatico i padri portavano i bambini le mamme portavano le figlie e così via sorvolo perché il tempo sta volando ecco sforo leggermente sul fronte cronologico grazie per arrivare per due considerazioni sulla Russia post-sovietica quindi anni 90-2000 un pittore Vasilio Shuzhenko molto noto all'estero soprattutto negli Stati Uniti è contestato in Russia per questi quadri si dice vuoi propagandare all'estero l'orrore della nostra realtà vuoi far vedere una Russia brutta che non esiste il titolo di questo quadro è Narciso qui ecco la bevuta in compagnia ed ecco il ritorno soprattutto di quel corpo grottesco alla Bakhtin che era stato bandito per tutti gli anni sovietici è un po' una riencita nei confronti della pulizia assoluta dei quadri del realismo socialista questo è D'Eugène Surlerb rivisto alla Russia con le acque inquinate e tutto il resto e ecco soprattutto questo la moglie che porta che sorregge il marito ubriaco un Lenin a sua volta gonfio e caricaturale e come gran finale queste toalè pubbliche il degrado assoluto uno dei luoghi più infami che l'Unione c'è una Russia iliaca poliografica finta che sarebbe quella che oggi invece dovrebbe essere promossa concludo con l'immancabile riferimento a Putin lo faccio prendendo spunto dal titolo dell'ultimo lavoro di Svetlana Linsievich recentemente premiata con il Nobel il suo ultimo libro si intitola tempo di seconda mano la vita nella Russia post sovietica secondo la studiosa tempo di seconda mano perché quanto sta succedendo nella Russia di oggi è già successo in quella sovietica staliniana e la lezione sembra non essere seguita a molto quindi un investimento da parte di Putin ampiamente noto sulla propria fisicità un uomo forte un uomo duro torniamo a quei motivi che minueiani che erano stati di moda nei primi anni dei sessanta caccia pesca torso brudo sport e la rivincita contro le sue leggi omofobiche in giro nel gay pride del mondo qui si legge la zarina Putin quindi i suoi ritratti photoshopati che giocano proprio contro il suo virilismo ostentato qui addirittura assieme a Medvedev facendo il verso a Pierre Gilles e due fotografi francesi questo è quello che si trova oggi se si arriva all'aeroporto Cereniesero di Mosca quindi questi sono porta iphone porta smartphone con il ritratto di Putin nel 2011 erano usciti dei calendari realizzati da studentesse quindi le donne pro e contro Putin in questa serie con le studentesse vestite molto seriamente accollate e con un cerotto sulle labbra a significare la mancanza di libertà di parola si dice la libertà di riunirsi sempre e quando si vuole punto interrogativo e poi c'è il nome e a quale corso universitario appartiene questa bionda dice quando sarà il prossimo attacco terroristico a favore di Putin invece eccole qua molto più seducenti e sensuali Vladimir Vladimir dice voglio farle gli auguri di persona mi telefoni era l'anno era l'estate in cui Mosca aveva preso fuoco i depositi di torba erano bruciati e quest'altra dice Vladimir Vladimir dice l'incendio dei boschi è stato spento ma io sono ancora tutto a fuoco quindi due atteggiamenti molto diversi nel 2014 il primo ministro della federazione russa perché allora era sì era primo ministro e non presidente perché c'erano gli evi che teniva le funzioni ha riuscito il regalo davvero in usare per i suoi 62 anni Mosca è stata inaugurata una mostra d'arte dove il leader del crimino era rappresentato nei panni di Evole e le sue imprese paragonate ricevono i codici fatiche e le vinci del forzito eroide ecco Putin con la Siria Putin con gli americani Putin che vinci i dradi quindi di nuovo viridità ultimissima pochi giorni fa vittoria per il 63esimo compleanno partita di hockey gioco forte gioco d'uno gioco maschio immancabile vittoria forse ha ragione il sistema Alexievich che il tempo di seconda mano è preoccupante ce ne è dobbiamo dedicare un po' di attenzione vi ringrazio grazie grazie c'è tempo anche per qualche domanda quindi faccio a voi la parola non tanto tempo approfitto di questo intervallo in cui vi state pensando se farei domande o meno per integrare le cose che ho detto all'inizio sono stata un po' affrettata e volevo sottolineare che quest'anno il 900 in tanto innanzitutto sono Rosario Ambrogetti che mi dico sempre qualificando faccio parte del comitato organizzatore del 900 feste quest'anno il 900 feste ha messo in piedi grazie all'università un'ottima collaborazione ed è per questo che oggi siamo qui ringraziamo e approfitto per ringraziare l'università perché è una collaborazione che ci fa molto piacere che speriamo di portare avanti anche nei prossimi anni quindi questo era dovuto e mi scuso di non averlo fatto prima ringrazio anche di Patrick Rich che è dovuto uscire mi ha chiesto di scusarmi con voi ma avevo un impegno veramente rimandabile con cui abbiamo tutti collaborato per la realizzazione di questo di questo appendice universitaria adesso lascio a voi il microfono allora ci salutiamo basta grazie ancora grazie grazie